Ok, vai, partiamo Ti avevo scritto un listone di insulti a me Cosa? No, no, stavo facendo 5 minuti di pausa cerebrale Rippe C'è una rabbia, madonna Rippe, c'è... No, se ora mi trovo davanti uno zingaro lo distruggo Eh? Eh? Sì, sì, ora c'è la rabbia della melonia Quando vede due uomini che si baciano Adesso, incazzato come sei, vorrei fare le cose ancora più in fretta E farai di nuovo, quindi sti cazzi No, no, no Tempo per un'altra furran Tempo per un'altra furran ce l'abbiamo, è tranquillo La mia rabbia funziona diversa Con fuorussato da incazzato Qua c'è la sua banca diversa e la sua rabbia diversa Cosa? C'è la rabbia diversa, non la banca Perché una pubblicità è tipo la banca diversa? Che banca? Cazzo ne so, non mi ricordo Mediolanum, così, per dirne uno Non è vero O tra banca esso Manca Toscana per i soldi toscani Detto che banca avete in Trentino? La banca della neve Quella altotesina Ah, quella austriaca No, va sparcasse, roba tedesca Lo fanno come in Scozia e in Catalogna vogliono fare il referendum Ma scappano gli altri tesini dall'Italia Si danno, vanno via Fanno ragione Ma anche tu La voglio Io non so, non so Il Trentino Siamo a Trentino Alto Adige e la regione Ma sono riuscunati, li ho appena consegnati E ora treo con i cosi, come si chiamano Lo vedi con i sandali e il bicchierone di birra tedesco Tanto gli austriesi sono solo una copia sbiadita dei tedeschi Ma che cazzo Ma? Ma si Come portoghesi sono praticamente spagnoli Vero Beh, su qua c'è da dargli ragione però Cioè, i portoghesi sono praticamente spagnoli E gli austriici sono praticamente tedeschi Come gli svizzeri dopo tutto No, gli svizzeri sono tipo la cosa di me No, no, gli svizzeri sono tedeschi Cioè, hanno praticamente tutto di tedesco Tranne il fatto che funziona tutto meglio Ma perché, vabbè Lo conto Nello Nello Taver Davvero? Ma fa? Ma non penso già che code Nello Ah, ok, sei su code, mica Mi sembra che fossi controllo su Destiny Mi sembra che non va a fare 6v6 finché c'è lo skill base Leggevo oggi un post interessante Una persona dove spiega che Non ha introdotto lo skill base Il nerf alla scivolata E al movimento in aria È inutile Perché se serviva a ridurre lo skill gap tra le persone Ora c'è lo skill base Non ha senso Non ha senso Vedurre lo skill gap Detro che ne pensi No, non ho neanche capito cosa hai detto Oh, coddio Dico un tipo Che ha pensato di Ritogliere i nerf alla scivolata E alla precisione in aria Dato che loro avevano fatto Perché la gente forte era Mangiava con quelle robe I deboli E ora che c'è lo skill base Cazzo di senso Tanto trovo solo altre gente forte contro Beh, ha senso il ragionamento Ha senso sì Non è fatto dalla banjo Quindi ha senso Come a volte senti quando vedi giocare qualche disadattato Che si lamenta che gli avversari saltano E scivolano Come se va a cacetti e lamenti Che il cinghiale corre Un po' Un po' di po' Che dita Se mi ha il poligono di tiro Dove tutti stanno fermi? Si fanno ammazzare Chissà se Nella Germania nazista Non hanno mai pensato di fare il poligono di tiro con gli ebrei Probabile Non devo documentarmi Sebbe una delusione Se non lo avessero fatto Vediamo così fantasioso da me l'ha aspettato Sono stati molto fantasiosi Ma ci hanno fatto di tutto Quindi non vedo perché Poi li vanno tutte le corde vocali Se no fa un bordello Andogli spari Sì Andi conto Come che una persona Deve progettare qualcosa Per acquisire gli anziani Sì Infatti dico Cioè Nel senso Tu li faresti morire tutti gli anziani Tranne tua nonna Perché ti serve il tuo sostitamento Esatto Ah già c'è il coso Già Uno dei dodi da fare sarà Il tecnico Che va dal vecchio Gli metta a posto il telefono Che non gli arriva messaggi su WhatsApp Perché effettivamente Ora che ci sono i vecchi E devono usare la tecnologia A forza Ma Non ce la faranno mai Beh dio cane Cioè Visto nell'altra epoca Ragazzi il coso Per favore È un'altra epoca camera Beh cazzo Figa ci hanno Cioè Voglio vedere te cazzo Fai 90 anni a vivere in una determinata maniera E poi Nel giro di 10 anni Poi perché la tecnologia si è evoluta A velocità fulminea Quindi non è che È stata una roba a scalare Se nel giro di 3-4 anni Ti escono i telefoni Che ti riconoscono la faccia I comandi vocali Le intelligenze artificiali Usarle così come se niente fosse Ma gli ho chiesto di usare quello No Beh certo Dove pensarci però Dove abito Paesino di campagna Vecchi Figli lontani Abbiamo bisogno 60 euro all'ora Per qualsiasi cosa Porco Dio Guardi c'è la pensione Eh potrei fare sul business E fare la pellaccia Oh io Beh ci sta Anche se Che poi le robe tecniche sono Eh Oh mi cambi Metti questo gattino Come foto Dello sfondo Ma purtroppo E poi per le cose più serie Li gira un altro centro Purtroppo Non è anche quello Perché Dio cane Ormai veramente Tutto funziona con Con il telefono Cioè se il vecchio Deve andare in banca Non può Infatti il mio nonno Che è uno dei vecchi Quelli molto alla vecchia maniera Ma proprio tanto tanto Lui la pensione La deve andare a ritirare Cash in mano Se no Per lui la pensione non c'è Dio cane La banca La banca non glielo va più Perché ha chiuso Ormai c'è solo L'internet banking Con la pensione Accredita del conto Dio cane Un disastro Faglielo capire Mi nonno ha fatto Un po' di bordello Quando gli han cambiato La pensione alla posta E non c'ha più il libretto Ma c'ha tipo La cartina Di credito Con cui va a ritirare Al banco Marta della posta Sì 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 Eeeh E lì Eh ma cosa Del libretto Cioè per fargli capire Che lui scrive I soldi che vuole E mette il codice E i soldi escono Un disastro Immagino Vabbè ma Riff C'è Cosa ti fa capire Vissuto in un'altra epoca Ma me lo hanno fatto Infatti anche usare Il telefono E no il telefono Quello che si apre Con i tasti grandi Devi aprire Fare il numero E premere il tastone verde Sì sì Infatti questo Quando mi sono messo Questa connessione Che abbiamo tolto La linea fissa Di telecom Gli ho comprato Quel telefonino Del cazzo lì Il telefonino Del cazzo Invece all'altro nonno Quello materno Gli hanno comprato Lo smartphone Pazzi Infatti Non ci ha piaciuto Un cazzo Voglio prendere E non ci sono là Terroni E voglio prenderli A vedere che cazzo C'è con il cervello Di dare a un vecchio Di 85 anni Infatti C'è uno smartphone Guarda Sa bene tutto Un bel telefono Il telefono per i vecchi È quello che si apre Con i tastoni Il brondi No il brondi No Il brondi no 100 euro vogliono Ho comprato sotto marca 40 euro su amazon Ok Però diciamo Stessa questione del brondi Una volta se l'è dimenticato Fuori Fuori casa E ci ha piovuto Sopra E funzionava uguale Un quarto d'ora Sì sì funzionava uguale Ma sì Sono tipo quelli Ragged No no Non è ragged I telefoni Però C'aveva un problema Gli ho dotato ambia la batteria E glielo Il telefono No il telefono Che è venuta la panza La batteria Un secondo ragazzi Se capisci cosa vuol dire Treo Ma se non mi risponde Puzzo offeso Pronto Un secondo Ho chiuso pronto Quando sei pronto Famiattiva Vado Vai Comunque Si è gonfiata La batteria Non so se Perché è stata Sotto l'acqua Beh Potrebbe essere Un motivo Non l'ho fatto bene Controllata Io non ce l'ho Viaggiatore Sponato Camio Quello che ammette Se c'ho il Davide Non c'ho la granata Fatto rip Il prossimo È mio Probabilmente Guardo subito È infilzato Viaggiatore Viaggiatore ancora Harry Se hai sponato Da me Ripete Ho fatto il mio Vado infilzato Io E ti leggo Cosa esce Sulla porta Sì Ok vai Finisco di fare I due mob Che sono rimasti Cervello Cervello Dove fa Ok Cervello C'entro io E mi leggi il cuore Subito È nero Dimmi appena esci Che devo aprire Poi Aspetta un secondo Viaggiatore Terra Vai sono uscito Ok Date un occhio Al mio Che ho il tuo Cervello Vai ti do un occhio Poi cerco il viaggiatore È in alto Nero Nero Rip Ok È in alto Da qualche parte Mi faccio quelli con lo scudo Te lo cerco Harry scudo Trovato Ah qui non Non è più Ma Tu che cosa Hai trovato Terra 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 S Stop Stop Ah stop Ok Vado Vado Sono diventato Stop Bianco Quare nero Quare nero Terra Terra S Ah Quare nero Terra S Terra Terra Ok Ok Ti va Fa' sta sfacca Sto Jero Triangolo Il primo Ehm Vado Provato Marto Ok Due Gesù Entri tu Harry Vado Ok Fai dal codogiarri C'è l'altro Triangolo Uno dentro Ehm Bianco Erra Poi le mani Già che ci siamo Vabbè siamo apriti la porta Dentro C'è da coprire il mio Eh Sto prendendo il mio Harry leggi Qualcuno legge quello di Harry Che è il colore Il simbolo Vado Ma indietro Bianco Che è l'ultima spawnata A triangolo Non mi sa Verso L'entrata A triangolo Provato Morto E' morto Prisma Vado io Sì per forza Perché mi sa che io Dov'andrò a difendere il mio Il mio Infatti Ah no Mi ha fatti già Lì Leggete al mio Il colore Nero Terra Pianascendente E' witness Terra Pianascendente Witness Vai faccio Pianascendente Vai faccio Pianascendente Era l'ultimo No Quindi manca Kami Yep Facciamo una cosa Qui Triangolo Il primo E' qua No Non è Qua E' da me E' da me Goccia Entri Entri Vado Poi cercate Triangolo Ok Ok Cercare Triangolo Trovato Lo uccido Mi Atro Il secondo Il secondo Da entrare Dopo è Jesus Quando esci Entro io Diretto Non ho dentro Entra Entra Aspetta che vado a leggerti E' nero Ok L'ultimo Posto Dove Entrare Guardiano Drink Appena esci Mi aprite Per favore Che vado dentro Jesus Ma Da solo C'è una Ah beh Sì Potevo E' nero Ok Di quando sei uscito Che vado A Coso Vado a Drink Che guardo L'ultimo Torre Vado a iniziare Tanto non devo aprire Uno che riesce a guardare Il mio Che si Qua c'è lì Nero Posto Ah è terra L'ultimo Di chi è? Terra Torre Guardiano Vai Faccio Un restauro Mi sono Sponati bene I cavalieri Mi sono Tutti sotto i piedi Li ho Distrutti Il cavaliero O gli scrib I cavalieri Gli scrib Distrugano Loro a me Bastard Di scrib O bastardo La spada Passano Un po' Fisso Il mitraglione Ecco perché Arrivi sempre Uno e mezzo Dopo No Non è vero Il fatto È che ora Mi sono venuti Tutti I cavalieri Sotto Qualcuno Allora Gruzzolo E che l'osso Il mitraglione Dunque si Ve lo dico Prima Al salto L'ho sbagliato Apposta Perché La run Non mi avrebbe Dato lo scena Perché no? Basta che non Quinti Tu lo siedertelo Da rip Lo so Ma secondo te Un fatto apposta No No Ci mancherebbe Altro C'è Un'affermazione Ci mancherebbe Altro E così Di punti Di sotto Diretto Sei un grandissimo Attore Dato Lo sconforto Subito Dimostrato Guarda qua Che roba Accettabile La scala Che si compenetra Non è il muro Vabbè Ma si Che cazzo Fossero questi Problemi di Destiny Sarebbero in un paradiso Magari Sì Vado a prendere Dell'acqua Ultimino Ottimo Vai Vai Vado anch'io Ho finito Tutta E io rimango Qua Sarebbero in un paradiso Non è il mio L'acqua Non è il mio E io rimango Vado a prendere La scala Qua Qua ah ripetornato si un attimo che sono tornato con il sogno di ogni bambino africano dai che cazzo però c'è adesso lo fai anche apposta è guarda sì che ho preso non tornato per delle belle carte di hugi o che ho da vendere in mano e bambino africano gli piacciono se hai capito dici malizioso io è il peccato avuto otto litri di acqua non so se te l'ho mai detto ma quelle da mezzo litro le bevo quanti sì ok c'è data 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 la proporzione ci sta ok pronto ripesta finito di sciottarsi da tutti i barai oi a 3 quando 7 7 1 1 luce 2 e terra vai apri an fatto un po di sparito la testa ero non so che cazzo è successo meno one shot una quantità immonda di mob appunto quando vuoi apri rip non c'è bisogno di stannare l'arri perché adesso lo facciamo vai rip e spara 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 ok posti forse si moltiplano i miei conini mi stanno facendo anni sono dovuto mettere una pozzetta quando fate un attimo di cose in volo metto il cecchino a destra è morto no non lo vedo vai andiamo ragazzi è iniziato danno non è ancora attivo si 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 è gialla gialla no è quando la vista gialla illuminata io sì lì vuol dire che puoi passarci sopra quando comincia a emanare luce gialla allora vuol dire che attiva ah ok capito allora ho filato unlucky ah niente andiamo non è arrivato un cazzo è tutta immuno così random il critere in due piastre in due piani sì sì piastre piano uguale anche se non sono uguali per me sono uguali quando volete allora occhi occhi fiore ci sono fuori spedetto io occhi fiore è un ucci an guarda che sto facendo i simboli vai ci sono non lo vedi più non lo vedi più non lo vedi già l'allumperò no no non ce la faccio stanno io aprimi al volo vincere attenti non mi faccio ai 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 minchia 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 eh mi hanno messo alto di oscurità i seeker quindi ripeto quanto hai di oscurità quattro no ok mi scarico prima io stun stun perchè non ti ho aperto perchè l'ho suonato subito ok standardo stun standardo terra sto chiambo dati di sotto come vuoi ripetini aperto per favore aspetta su one shot eh io se no 8 eh standardo terra stun ahhh ok ci sono posso smettere? si 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 scusami non ti ho detto ma stavo io sto rischiando tantissimo raga ma stavo un cecchino porco di me fa male metto io la guarda prima ovviamente come sempre ci siamo? entriamo vai 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 ma di ok ma guarda che è andata la granata non di qua va troppo vicino per le granate a fusione mi sa che vai in fase qua va bene va bene tanto se abbiamo praticamente sempre fatto tre piani fino adesso ne vuole fare due vabbè sì per il gusto di vabbè se avessi le moto delle granate ragazzi lo faremmo in due piani eh io non ho neanche una moto di quella lì eh vi ricordo quindi quando rompiamo quando rompiamo la fase vuol dire che io faccio pochissimo danno rispetto rip vuolchiamo provvedere i danni? sì volentieri questo tanto stasera ne abbiamo fatte, ne ho fatte poche distronzate allora forsaken dan forsaken buco e cuore forsaken buco e cuore sono fuori io eh sono dentro allora forsaken buco e cuore mi è sulle scale per lo stun vai io ci sono stun un attimo fatto torre apri ok c'è il di dio che vuole in cielo ok vado dentro eh stun oh non mi ho messato vai apri rip se riesci per favore stun 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 vai spara si è finito 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 io per sicurarsi te lo dico quando avevo già stunnato magari svegliamo e robe del genere comunque gli cazzo di opzioni di solito non ci fai caso ma si eh quando si moltiplica una spam poco la piastra è pronta qui niente well no no niente niente vai dentro dentro gli facciamo il gas del danno e gli facciamo la wallettina è che immune ok dopo mettiamo una dopo mettiamo una well per forza sull'ultima non siamo spostare allora vediamo andiamo in mezzo mettiamo quella del danno e vediamo che succede che cazzata del dio porco guarda no 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 ci sono affatto comodo anche per il danno preedit, colpi detrattivi, frenesia beh non schifo non fa direi no, anche se in default forse era meglio prendersi quella cosa se avessi bisogno, c'era un patta nevato vai bastardo, c'è un figlio della merda grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti brutto brutto volessi male sto pensando di prenderlo dicano che sia attualmente tipo il top mouse beh secondo me sì dicano sia due spanne sopra il lato e bottoni laterali oggi proprio sto a pensare sono 110 euro dovrei vedere se non faccio se posso ancora fare il riso amazon di questo nero è tipo comodissimo per me che tipo a metà mouse tipo va dal bordo in basso al bordo in alto va tipo ad allargarsi quindi tipo la poesia bella l'ambo atlantic atlantis tipo molto particolare cosa ma molto particolare come nome e la marca e l'atlantis è il modello esatto no ma tipo no ma non funziona ma neanche io mai sentite io sto su un gruppo italiano hv bravo simone giannini esatto lui è esperto lui c'è sotto e dice che è il top lui c'ha tutto c'è tappetini della si trova tutto figa c'è lì c'ha a periferi è il guru di treo è il confronto a lui e te ma minchia c'è un botto di periferiche anche te ma treo sì 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 fielo che è fanatico delle periferiche si forco due treo in confronto a lui e te minchia ci sono un bottazzo come da lui il guru è il guru è la pipa Però c'è anche un bot di periferiche Anche te Sì ma lui ce l'ha tutte Sì sì beh ok ho capito che lui ce l'ha tutte Però Non è che lo fa anche di lavoro Magari Mezzo sì Mezzo recensore Però penso campi Penso campi d'altro Diciamo che le periferiche Salvo magari qualche caso Non è che sono un hobby costo Non è che ti costa 2000 euro un mouse Però Compartieni già 10 da 100 euro Ma compratieni 100 da 100 euro Esatto I soldi li hai presto buttati Perché poi se devi provare I top sono quei soldi lì Eh dai ma secondo me O fa un lavoro super giga pagato Oppure probabilmente si può permettere Sì di ricomprarseli con quello che di genera il sito Probabilmente Prova no Prova a farti un tastier a custom Poi mi dici Eccomi Eh treo esatto Almeno 400 euro ti parto Beh dipende Oddio dipende Beh Se vuoi Si Vai all in Capito Io c'ho una tastierina del cazzo 80 euro C'è che buona Però tastiera custom C'è l'hai anche col filo Tutto Col filo A coda di porco Come lo chiamo io A coda di porco Sì A coda di porco Il cavo coil Il coil A coda di porco A coda di porco Mi mancava E treo che sono Sono un poeta Sono un poeta Io c'ho una ragazza La gente su coda deve esplodere Col cancro Io c'ho una coppia di gay Che va in giro con lo scudo Dio ladro Eh va bene Lo scudo tutto a cobaleno Con due Si si a voglia Che abbiamo a cobaleno Sì si Hai richiesto Pollai a sopra la porta Io c'ho una Io se non mi prendono Sì Dunque andiamo C'è ho Sì è arrivato Come un termolino Di all'ultimo Here we go Here we go again Allora fatemi risettare Un attimo Ma com'è bello L'ostro striga Che si distrugge Il caricatore Com'è bello Come ripeto Non ho capito Cosa Che l'ostro striga Vedi il caricatore Com'è man mano Che spari Si fa No avevo capito Dopo hai detto Oh madonna che sborra Ho detto cosa? No Mi pareva di aver sentito così Hai sentito male Probabile È come spalletti Hai sentito male Vai quando volete Vai Abituato Tammete abituato a sentire Le cagate di rip Che se le sogna Sì 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 Decisamente Stop forsaken grief Forsaken Eh ti vedi scherzi Ma tante volte Mi capitano Delle situazioni A lavoro Dove Battuta Botta risposta Una botta risposta Alla rip Tipo fanculo i finocchi Che mi devo trattenere Da dire Perché se no Mi fanno chiudere Lo caldo Però rip Me l'ha messo in testa Io sono la minaccia Più grande Al movimento Walk Sì sì Altro che Andrew Tate Torre Gesù E cuore nero Dosette di sborro Sull'orologio Di smeralde Capito rip Torre Gesù E cuore Ok Venite qua ragazzi Eh un attimo Non posso ancora Raccogliere Ok Andiamo Quindi il primo è Torna Infatti Dico Perché chiede a me Se la di lui Ah già Sì è vero Eh perché Perché subito Che la prendi tu Al primo Prima abbiamo detto Che torre Infilzato Terra Fiore Alla appena ucciso Terra Torre Terra Torre Ok Vado a prendere lo scudo Terra Torre Terra Torre Torre Terra Terra Terrone Allora Un terrone di terra Iniziamo a investigare Colpi verdi Ti direi che la prima È a destra E poi Vado a sinistra Speriamo di no rip Perché È quella che ci è venuta Piggio come try Quindi Se poteva essere così È un problema Vediamo Apriamo le bet In caso vado io a destra Poi io continuo dritto E dopo Comunque posso raccogliere E ci clansiamo Dove mora il primo gatekeeper Cliffkeeper Poi lo molli giù Lì lo scudo Ok Appena muore lo molli giù Quando vuoi Cioè Appena Scusa Appena ci clansi Lo rimane giù Sì 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 Beh Non serve a portarlo avanti Tanto È più l'ortura di coglione Dopo tornare a prenderlo Però quello è il me Sì ma è il tempo No invece no Meno male che non avete ragione Ragazzi Che non ho Sì sì Meno male guarda È indovinato Perché io Io ho bettato Contro il campione Ok Ok Io li ho uccisi Però Cam lo devi vedere tu Un attimo Un attimo Sì sì intanto vengo da te Allora Sono Stop Triangolo E viaggiatore Stop Stop Triangolo E viaggiatore Stop Stop Mini quarry Ok Va con voi Andiamo E c'è il tipo Qui che è meno Palle quando rimbalzano No 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 Ok Nero Flotta Gesù Io qua non lo vedo Rip Devi andare a B La cam Ah LQR Ho già letto io Devi leggerlo tu Rip A sinistra Ah Leggi quelli Nero Flotta Gesù Flotta Ok Quindi sono Flotte Stop Ah ti aspetta Sì sì Vado a prendere lo scuro Sparo io Sì sì Occhio a entrare Posso? Sì sì Se vedi Se vedi entrare me Vuol dire No no Dico posso entrare Senza morire Senza scoppiare Vado a prendermi due colpi verdi Mi sa che qui sono più mob non intrappolati Quindi destra Dico destra Io cazzo E Niente C'è che di tirarlo fino all'ultimo e mettilo Io sono proprio tirato Al minimo Ah Tre Due Oppure perché la tether è più lontana Lo vedi in meno rosso Qui Vado a lasciare lo scudo in centro Sono più studi Ma come prima Potremmo dire un po' del cazzo Ma arrivo Allora Fiore due ho visto già Adesso leggo l'ultimo Fiore due cuore Venite in centro qua Cuore nero Cuore nero Ok Dai la fonte Sì Ok Più avanti la prossima volta Ok scusa Aspetta Come fare un Sotto Ok Una bella zona dove spawner Gliff Keeper Perché non ci sono i soffitti Doll Questo è in pace In pace dei sensi Che cazzo è Gliff Keeper qua? Ok Io non l'ho accoppato Ok sta spawnando R mi aiuti Così lo shottiamo subito Ti girò il thunder crash Ok Allora flotta Occhi E witch queen Witch queen Vai fai il tizio Vado a prendere lo scudo Quindi fallo Witch queen è l'altro Che cosa era? Fiore? No cuore nero No cuore nero esatto Cuore nero Witch queen Cuore nero No ragazzi sono caduto F4 Ma che cazzo dici cami Ti stavo guardando Ripe se lo metti giù magari finiamo E perché l'altra volta andavi più tardi a prendere lo scudo Stavo un po' per aspettare con la red Ok ora con calma puoi a schippare di là Sì sì no 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 non skate Io nella Qui E tranquillo Io sono andy E poi R non può skate R non può skate R non la guerra Eh ma R è un No il missile è un po' Ah beh sì è vero È vero Cazzo È vero Scusa ma vuoi schiare a pulire i mob? Non mi sembra E vè è rip Più che altro che non è confident Nello skippare Il discorso è quello Io potrei skippare anche Ma metti già la nade rip No 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 Puliamo i mob Ma sì dai facciamo Facciamo il piano Ripuliamo tanto con l'ostio Il pallavario Il trio 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 E Che già mi viene l'ansia Rip E fai come Manu Cioè un giorno Mettiti lì Per bene E costruisci la macro Ma è altro In Mario me l'ho messo 5 ore in pandemonio A imparare Sono uscito da là Con 5 ore in meno della mia vita E che non ho imparato a fare un cazzo Tu Harry Skate con la macro come Manu O No Skate a mano Quello quella Quella da fermo Ok Quella chiamo da fermo Quella senza al bordo Quella che Marco è Salto Pesante Well Salto Attacco leggero Salto Well Salto Attacco leggero Salto Well Nenca al day one Abbiamo pulito sti mob Cioè Sono serio Sì Abbiamo messo la piattaforma E si fa Sì sì Neanche noi Neanche noi Siamo passati dritti Schifando Allo day one Non li abbiamo mai puliti sti mob Ah che belle Le mie frattopormine Dio cazzo Ma ci sono pure Chi è che era morto qua Nella Flawless Qualcuno era morto Sì 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 Di famoso Se non mi sbaglio Salto a greppo Aveva ferrato la trio Perché qui Lo stavano pushando gli schiavi E uno del team Era scivolato Perché gli schiavi Avevano spento ciuto le scale E avevano ferrato la trio Flawless E attento che ti suicidi Con lancia granata Sulla scala Sì sì Ho visto E quella pallina è rimbalzata Ti torna E ti torna E ti è sparato in faccia Mucca quanto vorrei Wapar adesso Per il progresso Di rifare Che lo detesto Sto ride Non ho niente di Cioè A me piace un casino Non so Perché C'è solo le armi buone Sì no Non c'è niente di difficile da fare Cioè Non No ok Quello è vero Però a me piace un casino Sto ride Proprio l'ambientazione Tutta Mi piace veramente un bordello Di promessa Ah ora mi metto Le bmlle armi Infatti sono stato l'unico Anche nel day one A cui piaceva Sto ride Tutti gli altri Mi insultavano Perché gli faceva cagare A me piaceva morire Sto ride Ti anche insultavano Perché tu meritavi Gli insulti Però non è difficile Gli animo grandi di Destiny Dicami Vabbè Mi piace Cazzo ti devo dire Allora se lo dice Terra cosa ti piace È bello come ambientazione Però come meccanica È banale Allora ok Quello Vabbè possiamo essere tutti d'accordo Meccanica è banale Un attimo Dove riprepararti I pezzi d'armatura Sì Tanto io sto finendo Anch'io di fare la build Quindi vai tranquillo Io guardo se il tipo Mi ha risposto E voglio la mia recensione Inizio a piantare giù la bandiera Recupero 18 No Mi sono notificato a Telegram Porco Gli riscrivo Mo Verstappen È giusto a vinte Se lo mette Perché non dovrebbe farlo Hamilton è 27 Non sarebbe messo Cosa? Hamilton è 27 Non sarebbe messo Vabbè ma Hamilton è coglione Ok Come fare incazzare i cami No Possiamo filare solo il final stand Supongo Sì Adesso a meno che qualcuno Non gli venga la bella idea Di correre incontro al muro E volare di sotto Io comunque ci sono Anch'io Ok sto mal di testa Ho camminato troppo oggi Fai una comiglia di sera Deposita sempre rip Sì 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 Uguale giro Primo il tuo Poi deposita sempre rip E l'ultimo lo facciamo in due Sì 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 Ho shotta un colpo di lineare Non credo Un po Quando volete comunque ragazzi Entrate nella barriera Ah giusto Ah sì Sì l'ho shotta Ho scattato la colpo È lineare Si usa per fargli critici Ma il motto Si è nascosto Guardiano S terra Aspetta leggiamo prima Guardiano Guardiano Dove è spettato? Destra uno Destra uno Eccolo qua Allora guardiano Abbiamo detto Sinistra uno È god Manuel che sta facendo Nello man Cosa? Sinistra uno Sinistra uno È god Eh è inutato E' inutato E' inutato E' una finta Da qui Farmi Sottoli Per tutti Destra due E' inutato E' inutato E' inutato E' inutato Vai a doppio scambio Vai a doppio scambio adesso Puro? Sì Ma che ora sei mosso Sinistra uno Destra uno Vado a destra Vai Adesso che prendiamo quelli sopra Cerchiamo di darci il tempo Di bancarli e tutto Prima che ci sovrapponiamo E sbagliamo a leggere Dai io non li prendo mai Fate voi Che ieri Ho paura e va a finire Che ce li piniamo tutti e tre E poi nessuno sa leggere Eh esatto Ed è un casino Fatemi un attimo Che switch al notore Che rimbalzato Faccio un'arrivazione Stanissima Sulla schiena E muori Ogni colpo di sosse E' una fitta La tempia E' buon segno Oh no Goddio Chi sei più Triangolo Un bel Triangolo Bianco Basso-destra No? Si Ok Cioè check Per ricordare Se mi ricordavo Ok Ok Leggetemi Nero E triangolo Alto-sinistro Si 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 Facciamogli fare Sti cazzo Di raggi Noia fatti Eh Belleggiatura Alto-sinistro No? Che ansia Se non era giusto Madre di dio Stai Stai lontani Raga Lontani 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 Di così Perché non ti incazzi Come dovresti Ricarico Ricarico Ok Che fa Il dash Non so Non so perché Mi ha Mi ha disagrato In quel momento Mi sa perché Mi sono allontanato Un attimo Per ricaricare Probabilmente Invece Sai Boh Dai 3 giri Sticati Passo di troppo Indietro Vabbè Fa niente Poi c'è 3 giri 2 Se proprio Si è meno Di metà In vita Ah ok Non rischiare Va bene Sì No Non posso Riusciamo A farlo L'altra volta Cazzo Abbiamo fatto Tre quarti Di vita Ragazzi Cioè Nel senso È andata Mare Sto danno Qua Però È il mente Perché L'altra volta Tanto Rischiare Non è Rischiare Io gli faccio Il danno Solo di lineare Io poi non ho granate Se arriviamo Fai una stand Così In una fase Ok ok Allora Non arriviamo Ci basta Cioè È uguale Ragazzi Il fatto è che Faccio il glyph Stop Witness E occhi Stop Finistra 2 A posto Un sinistra 1 Potremmi fare Un po' di nemici Perché Non ho l'ho Well Potremmi fare Quella granata Per favore Sinistra 2 Una Camericercatore Doppio giro Ora Sì Ok Rawelle Sinistra 1 Sinistra 1 Destra 2 Vado Destra 2 Vai banca Vai Vai banca Sono colpi di pesanti A me son pieno Mi trovo un sacco di pacchi Insanamente Non noi Siamo noi Saccheggiatori Mi da un sacco di pacchi Ma non le sto usando Saliamo C'è pacchi anche qua Dove? Nero Nero Dove? Viaggiatore Ok Basso sinistra Sì 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 Ma non ho preso un'altra No Non l'ho preso Proprio là dopo Ok Bianco Bianco Sposto Ok Prendo l'ultimo Dove? Nero Nero Cazzo di critico Ah Sentitemi se mi push Questo camion armatura Non ti sta pushando Per adesso Ok a posto Ok pronto camion dopo stiraggi E' tuo Ma? Dove va? Fa niente Fai niente Fai niente Fai niente Continuata Volete fermarvi qua O ancora un po Basta basta ragazzi E fermati E fermati Basta basta per sicurezza Basta basta C'è ancora la granata sotto Ma non penso No no basta basta Infatti Stop Via Via Vedete comunque che abbiamo fatto un quintale e mezzo di danno adesso rispetto a prima Sì Non ho capito perché però perché ho fatto la stessa cosa ma Comunque è venuto fuori un glitch Cammy su Pokémon che puoi duplicare tutti gli oggetti del gioco Ma? Destiny vi like E al Pokémon gli puoi dare in petto le caramelle esperienza Che xl sono tipo delle caramelle rare Mani Piano 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 Alla sinistra Cammy Ok Destra 1 Stavo ricaricando ragazzi Sopri Puoi colonare anche le mastre Umba In mezzo No giusto Io ok Non sconcettarmi sui Pokémon RIP Perché ci stavo pensando a quello che stavi dicendo Io ok mi sto sconcettando un attimo Far Eeeh Adesso ti leggo Sinistra 1 Sinistra 1 Sinistra 1 Sinistra 1 Sì Sinistra 1 Appena si riaggiorna Sinistra 1 Ancora Giro Giro doppio Sinistra 2 Destra 2 Vado a sinistra 2 Vado Non gli vado sotto eh Per fargli divinity Ok Se mi prende coi raggi dopo Nella final stand Dico ciao ciao mamma Le appizzo subito due granate Perché ieri ho visto attaccandogli le granate Lo ho e gli levo un po' anche dell'altra tacca Dov'è? Triangolo Eh Non vedo un cazzo C'è lui davanti Triangolo Triangolo Ho preso anch'io Bianco 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 Ehi dai Prendo di nuovo Bianco Uuuu Ok Ho schivato Rapprendo l'ultimo Eh nero Occhio alla lancia A non prendergliela Tanto devi scompare il bat Si si però metti a casa che facciamo quel lente per qualche motivo ti rimane Oh Non m'ha caricato Niente Rifai i raggi Beh Ok Avete detto nero Andiamo a nero Stook rip è morto Ma no ok Nooo Cioè dovrebbe essere poppata la gamba Si Vai Dato uno in stand Occhio che è entrato eh vai Dai 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 Ok Buono GG Fatto? Si Finalmente il mio shader Ma si un'arma rossa Un'arma rossa sfregio gliela compriamo giusto perché abbiamo finito la run Anche se non ti serva un cazzo No Ma No 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 Grazie.